Doveva essere una giornata di divertimento e intervallo dalla scuola per i tre giovani ragazzi della provincia Brianzola in gita a Gardaland, ma le intenzioni erano ben altre. Nelle vesti di insospettabili studenti, i tre ventenni agivano in maniera ben organizzata, sfilavano portafogli, telefoni ed effetti personali dagli zaini dei visitatori. Ma l'operazione non è andata a buon fine, non sono infatti passati inosservati agli occhi degli addetti alla sicurezza, che hanno subito avvertito i carabinieri del nucleo operativo di Peschiera del Garda. Intervenuti al parco divertimenti, i carabinieri hanno individuato i ragazzi, li hanno fermati e perquisiti, ad aggravare la situazione, oltre al ricco bottino che ammonterebbe ad oltre 1000 euro, 25 dosi di marijuana. Già incelofanata e pronta allo spaccio, le dosi sono state trovate addosso ad uno dei componenti del gruppo. I tre sono stati arrestati in flagranza di reato e sono stati giudicati questa mattina per direttissima dal Tribunale di Verona. Dovranno ricordare l'obbligo di firma presso la sede della Polizia Giudiziaria del luogo di residenza.